Per questo oggi è una sfida di quelle super mega fantastiche Ci sfidiamo a Minecraft senza poterci muovere Come? Non ci possiamo muovere Dobbiamo riuscire a fare le cose di Minecraft Vanilla senza potersi muovere Ma non si possono fare, Steph, no, non si può Sì che si può fare, c'è un modo molto semplice Basterà usare le Enderperler Oh no Eh sì, dovrei fare tutte le cose di Minecraft senza mai poterti muovere neanche di un passettino Dovrei soltanto lanciare Enderperler tutto il tempo, sarà una tortura E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E sono Steph, è che si giochiamo a Minecraft E perverotele un nuovissimo episodio di Minecraft con una nuova sfida che ha inventato Steph, credo Oh yes Perché non lo so da dove te la sei tirata fuori, sinceramente Allora, è molto semplice Una volta mi cito una cosa classica del Vanilla da fare Una volta te lo dirò io e dovrei riuscire a farla senza mai muoverti Quindi inizia a smettere di cliccare whilst e fare perché non puoi più muoverti Invece posso? Toglitelo dalla testa Dovrai usare soltanto le tue bellissime Enderperler Inizio io o inizi tu? Eh, non lo so, è uguale Allora, inizio io, inizio io Devi riuscire senza muoverti Ma partendo proprio da qui in questo esatto momento Non posso spostare Esatto, esatto Daorio non ti puoi più muovere Devi riuscire senza muoverti a prendere della legna Ok, ho un alberello qua vicino Quindi mi sembra giusto Ok Non mi muovo Io ovviamente mi posso muovere per guardare se le cd esce Non si sta muovendo Guarda, adesso farò anche l'achievement Eh, ma devi anche raccoglierlo, eh Ma Non ci arriva Guardate, guardate la situazione Ok 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 Ce l'hai fatta Sfida numero uno completata Ti puoi spostare Anzi no, devi restare lì Facciamo che devi restare lì Adesso continuo a prendere pure il tra legna Va bene C'è anche da dire, Steph Va bene, sì Che fa male spostarsi con l'ender pearl Perché ti fa del danno, eh Lo so, infatti Il cibo sarà importante Allora, a me che cosa dai come sfida? Su Allora, vediamo un pochettino Ho la mia lista qua Ok Allora Procurati del cibo Vai Ma io te l'ho data gentile da prima Salve, maiali Devo trovare il modo di ammazzarvi senza potermi muovere Farvi cadere in acqua È una buona soluzione Vieni, vieni Bravo, tornammi addosso Ok Bravo, continua Continua Sì, sì, sì Stai facendo la cosa giusta Prendi un po' di sverle Non so quanto ci metterò ad ammazzare la pugna Io te lo dico No, non di lì Non di lì Porca miseria No Vai, raggiungilo, raggiungilo Mi sto godendo la scena Mi sono sporta fuori dall'albero solo per vederti Stef, molto diverso Aspetta Aspetta, perché ho un cuore e mezzo Potrei Quindi è completata o non è completata? No La mia prossima sfida Devi riuscire a recuperare 5 fiori Allora, fammi guardare un attimino intorno Ok, io mi muovo con solini che altrimenti non ci godiamo fare che impazzisce Io qua voglio togliere le foglie Quello può farlo Quello può farlo Certo, certo, certo Lì giù ci sono dei fiori Quindi Allora, leviamo altre foglie perché voglio fare un bel salto È molto divertente Però finché sono fermo io posso fare tutto Ok Sono lì i fiori Aspetta, un po' più alto Non è stato un bel volo Ma Mi sa che ti stanno bloccando le erbacce, Fere Però questo non lo sapevo Non vale, accidenti Ok Ok, ok, ok Allora Un cuore e mezzo per Fere Non posso farlo Aspetta Non posso farlo Tieni Ma è cruda Dimmi che ti arriva Ok, sì E lo so che è cruda, non ne ho trovato altra Mangia, mangia, mangia Così recuperi almeno un cuoricino Ok, quindi devi riuscire Ah, voglio andare perfettamente al centro Anche perché te l'ho detto Quello dell'erbaccio non si conta Perché dai Ma che cavolo è che un erbaccio Vai, Fere Non ti Sempre ho un muro di pietra Vado qua al centro Ok, ho un cuoricino però Uno Ok Non li prendo gli altri Un cuore e mezzo Cavolo Ho detto dai Il saltino è piccolo Ma la posso cavare Invece no Allora Mi sa che dobbiamo un attimo Modificare la sfida Fere Perché altrimenti è troppo difficile Facciamo che abbiamo Le enderperle E il cibo In modo tale Che almeno possiamo Costantemente recuperare Perché la cosa difficile Deve essere Il riuscire A mirare No Sì Più o meno ero Qua, giusto Sì Più o meno Sì perché avevo preso sto fiore Allora Quindi dammi del cibo Sì vado un attimo a prenderlo Qua c'è un villaggetto Faccio un po' di pane Faccio un po' di cose E te lo porto Eccomi Fere ce l'ho fatto Ho rubato un sacco di roba Dai villageri Prendi un po' di pane Non mi arriva Ok, meno male che ti è arrivato Comunque la tua legna è qua Fere Che me lo stavi chiedendo prima Ah, passamela Perché mi può essere utile Per altri No, me la devi passare Io ormai sono ferma Sono rientrata nel mood Della sfida Stef Non mi posso più muovere Sono bloccata Ok Sei un fiore di cinque Giusto? Sì Ok, perfetto Allora Quindi Si deve muovere per prendere quello È stata abbastanza precisa Brava Secondo me riesce a distruggere anche l'altro Ma forse non te lo luterà E infatti Vieni qua È fastidioso eh Aspetta Voglio andare perfettamente al centro qua E dai però Sono qui Non me lo puoi non dare Fere soffia Non cambia Vieni No, no La sto mettendo in difficoltà Lo sapevo che cinque fiori erano fastidiosi Me lo immaginavo proprio Sì Ok, allora La riesci a prendere quel fiore Prima che sparisca Lo vuoi lasciare lì? Eh, devo fare un viaggio solo per quello Eh, beh Cosa vuoi fare? Sei a tre? Sì, tre fiori Faccio questo Ok Maialino Perché il mondo ce l'ha con me? Me lo spieghi? Me lo vuoi spiegare? Perché il mondo ce l'ha con me oggi? Continua a mangiare pane va? Sta già finendo le pagnotte Fere Ok Eh sì, ti tocca Ti tocca Vabbè, ma tanto enderpearl Poi se vuoi te ne darò altre Non è quella La parte della sfida La parte della sfida Riuscire a fare queste cose Senza impazzire Allora Steph L'erba mi sta profondamente urtando Lo so, lo so Perché ostruisce i miei viaggi con enderpearl Capisci? Attenzione Cinque Guarda, ce ne ho tutti e cinque Uno, due, tre, quattro e cinque Basta Congratulazioni Ok Tocca di nuovo a me Fere Vai Dammi una bella sfida Dammi una bella sfida Su Allora, vediamo un pochettino Sì Non lo so Cosa vorresti fare? Non lo so Devi dirmelo tu Allora, devi partire da qui Fermo immobile Facciamoli sì Allora, devi raccogliere della pietra Che penso che sia bella lontana Non so se vale scavare sotto Finché non la trovi Però secondo me te la devi andare a cercare No, allora Potrei anche farlo Ma come torno su? Eh, ah, peggio L'enderpearl Capito? È il delirio Per di più Io devo andare a prendere della legna Per fare degli urtessi Non ho starruto Mio Dio E non mi è uscito L'ho interrotto L'ho interrotto Anche il maialino ti sta guardando male In sto momento Ah, che dolore Il maialino è stato terribile Te lo dico Uno dei momenti più brutti della mia vita Dicevo Che mi serve prima di tutto Della legna Per farmi il piccone Quindi io miro lì Comunque seguimi se vuoi Perché altrimenti non veniva in nulla Ok, ho un mistato di poco l'alto Porca miseria Ok, vado, 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 vado Un po' di legno Oh no Ma non so più dove sei finito Oh no Ah, eccoti Ho sentito il rumore di uno zombie Oh no Dimmi che non è qua vicino, vi prego Ma com'è possibile? Non lo so Non è possibile, è giorno Lo so che è giorno Sarà sottoterra Avrei una caverna sotto Ah beh Tanto devo soltanto andare a prendere della pietra Sì, ma non può esserci durante il giorno Non c'è nessun rischio, vero? Che mi faccio sia un piccone Dato che mi serve adesso E sia un'accetta Perché mi può sempre far comodo Mi sono fatta una crafting table anch'io nel frattempo Ok Beh, ci sta Può sempre risultare comodo Certo, certo, certo Infatti fa comodo Dato che sono qua a ferma ne approfitto Infatti io mi distruggo la crafting table Nel caso in cui mi riserva dopo Eh certo, certo Può sempre servire Ok, allora a questo punto Ehm E ora dove vado? Perché lì in fondo vedo la pietra ma è lontanissima E non puoi distruggere le case dei villager Te lo dico già anche perché L'ho già immaginato Voglio proprio pietra La stone Non la cobblestone Quindi voglio proprio pietra Allora, di qui Ah, non ce l'è Ok, dove è finito? No, qua c'è della sabbia Ho sbagliato totalmente zona Secondo me devi andare dall'altra parte Io mi sa che il rischio vado sotto terra Vai È rischioso? Ci provi Allora, teoricamente Per darmi più chance di riuscire a risalire Devo bucare un po' di più Ok Ok, aspetta Tu mi hai detto Prendere della cobblestone No, della stone Della stone Però non mi hai detto niente quanta Quanta ne devo prendere, Fere? Non lo so Tu le hai scritte queste cose Quanto è il tanto giusto? Mi sto aspettando Così riesco a stare vicino a te senza disturbarci Non lo so Allora, in questo momento Dai, secondo me va bene Comunque l'hai trovata Quindi direi che va bene Ok, guarda Ne ho preso addirittura 8 Anche perché ora il problema è risalire in alto Ma teoricamente ho bucato in un modo tale Da avere un quadrato abbastanza grande Da poter fare Così Ok, sta ancora scendendo Ok Sì, sì, sì Ce l'ho fatta Allora, tocca di nuovo a me, giusto? Sì Allora, Fere Voglio che tu Eccomi Costruisca Una piccola casetta No Allora, io non ero qua comunque Ti ho seguito Voglio riendare nella zona In cui racconti i fiori Ok, va bene, va bene, va bene Perché lì dove mi sono fermata È lì che secondo me è una zona migliore Che era più o meno questa Ok, ok Ok, quindi Quanta legna hai già da parte? Hai 8 Ho già fatto una crafting table Per fare una casetta ancora non ti basta Quindi ti tocca andare a prendere della legna Dopodiché tornare in un punto che va bene per una casetta E costruire Che può essere un qualsiasi punto Io direi di andare verso là Facciamo una bella parabola, vai Ok, guardate Speriamo di andare abbastanza lontano Perché lì c'è una bella foresta È più o meno Hai fatto un bel tiro Devi tirare di nuovo Ringrazio che non sono finita nel buco Ok Uh, che rischio Oddio, oddio, oddio Vai via, 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 via Uh, 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 uh Mi è sceso un colpo Guarda allora qua Che rischio Sono pronto a esplodere Sono finito su un albero? Sì Ok, questa è una buona cosa Beh, teoricamente quello te lo puoi riuscire a prendere Esatto Ti distruggi le foglie E ce la potresti fare Ma io ti voglio vedere costruire C'è chissà quanti enderperle ti toccheranno usare Per costruire una piccola casetta Sarà un delirio secondo me Eh, assolutamente sì Ti ci vedo davvero male Ti ci vedo davvero male Ovviamente Consolini Con il sondaggio dovrete votare Chi ha fatto le sfide migliori Nel senso che Chi ha fatto le sfide Che ha messo in difficoltà di più l'altro Sono molto curioso di vedere Chi vincere a questa sfida Mi sto costruendo un'accetta È un problema Era buona la foresta per prendere la legna Ma ora per volare Seguramente come ne andare? Dove sei parata? Qui Questo è un posto perfetto però Vicino al laghetto Vicino al villaggio È un posto perfetto Ok inizia a costruire Fammi vedere un po' Sì un attimino Ma devo fare tutto? Una casetta piccola Proprio quella minimale Devi poter entrare Devi avere un tetto Ok Vai Fer Aspetta Sto calcolando gli spazi Secondo me Consolini fallisce Io sono quasi sicuro Che lei non riuscirà a fare la casetta Si può iniziare qua Ok Così Così Ok Così Ok Aspetta Poi allora ci dovrebbe essere Tecnicamente qui lo spazio per la porta Lì Non fa più di così Aspetta 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 Vado qua C'è i denti Volevo salire sul blocco Si può salire secondo te Sui blocchi? Sicuramente se mi ripene sì Allora aspetta Dai fammi salire No Sicuramente come nel mirare dall'altro lato Capito? No è troppo difficile Non penso di farcela Lo so Lo so Questa sfida è davvero complicata Fer Se fai la porta da un altro lato Puoi saltare e salire su quel blocco stesso Dove te lo metti sotto i piedi saltando Sì È la cosa migliore Non posso fare niente di meglio Ok È però la porta Adesso dove la faccio? È qua Una di questi due È brutta È bene Non devi fare una bella casa Così Già è un miracolo se ci riesci Ok Così Ok 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 Non ci arrivo in quel lato Che poi secondo me non ti basta neanche la legna Ok Ancora uno E poi il tetto Ho lasciato un lato scoperto ma non mi interessa Beh no Se la casa è chiusa vale Quindi Esatto Alla fine Stai facendo una casetta che comunque vale Quindi questo è un tetto tecnicamente Eh lo devi chiudere Così Se è tutta tapata Sì adesso devi riuscire ad arrivare qui Entrare dentro Mettere la crafting Fare la porta E mettere la porta E avrai concluso la tua casetta Ok Mi sembri stanca Fere Come vai? È solo fatto una casetta in survival brutta brutta Cosa c'è che ti rende stanca? Ecco io Aspetta Ecco io Ok È dentro casa Quindi un'altra cosa c'è riuscita Ok Quanta legna hai? Sei? Beh Crafting table qua È molto piccola Cioè probabilmente non ci sta neanche un letto È proprio una casa Però tu non mi hai specificato le dimensioni Non mi hai specificato Tu hai sei di legna Eh Ti rendi conto che ti basta a malapena per fare la porta Hai avuto una fortuna sfacciata Te ne fosse mancato uno solo Dovevi tornare a prendere gli alberi Che vergogna Che vergogna Qua hai avuto fortuna Adesso aspetta Qua hai avuto fortuna No Stef a posto Per ragazzi se ne esiste giusto Ascendici un like E se ne è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerarli da iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Grazie per la visione!